La Lazio quindi combatterà come ha sempre fatto fino ad oggi questi fenomeni e vuole fare chiarezza sugli autori di queste azioni attraverso la ricostruzione delle telecamere, attraverso anche la stampa di chi ha stappato questi o ha costruito artatamente perché non vuole essere strumento né strumentalizzato in un momento in cui la Lazio trova un grande consenso nazionale e internazionale sui comportamenti. C'è un errore di aprire la Sud? Allora, guardi, non accetto strumentalizzazioni, l'apertura della Curva Sud è stata fatta proprio per combattere il motivo di un'iniziativa antirazionale, per dire chi è a favore e contro il razzismo deve andare in Curva Sud, quindi non è stata nessuna scamotace, nessuna cosa come qualcuno ha voluto strumentalizzare. E' ora di finirla che in un momento favorevole della Lazio per i risultati sportivi, per i risultati economici, per i risultati ambientali si possa utilizzare qualsiasi strumento per denigrare e destabilizzare la voce.